Ciao a tutti, in questo video voglio parlare dell'autocompassione, perché serve a ciascuno di noi. Allora, intanto che cos'è l'autocompassione? Per capire che cos'è l'autocompassione dobbiamo capire che cos'è la compassione. La compassione è il desiderare che una persona, se provo compassione verso una persona, possa alleviare le sue sofferenze. Il mio desiderio di alleviare le sofferenze di una persona. Questo è il termine compassione, che non ha nulla a che vedere con, diciamo, la pena o cose di questo genere. È proprio il desiderare che una persona possa uscire fuori dal suo stato di sofferenza. E quindi l'autocompassione è il desiderio di uscire noi fuori dallo stato di sofferenza. Per questo l'autocompassione è veramente molto importante. E come facciamo a uscire fuori dalla sofferenza, quindi a sviluppare autocompassione? Beh, intanto accettarci così come siamo. Questo è il primo punto. Senza giudicarci. Possiamo migliorare i nostri comportamenti, ma noi andiamo bene così come siamo. Come siamo nati. Ciò che siamo va bene. È la cosa migliore che ci può essere. Possiamo migliorare i nostri comportamenti, ma mai giudicare negativamente noi stessi. Possiamo giudicare negativamente tutti, ma mai giudicare negativamente noi stessi. Questo è il primo punto. Poi dobbiamo avere un atteggiamento gentile verso se stessi. Dobbiamo essere gentili verso noi stessi. Non dobbiamo essere duri, negativi. Assolutamente no. Dobbiamo renderci conto che non siamo soli e che non possiamo mai, non potremo mai essere soli, perché siamo in interdipendenza con tutto ciò che ci circonda. Quindi questo è un altro fatto fondamentale. Non dobbiamo temere la solitudine. E dobbiamo avere la consapevolezza di noi stessi, diventare consapevoli e identificarci con il nostro sé superiore, non identificarci con le nostre parti più deboli. Dobbiamo identificarci con il nostro sé superiore, non delegare a nessun altro la nostra felicità e la nostra infelicità. Noi andiamo bene così come siamo e dobbiamo essere felici così come siamo. Questo è quello che dobbiamo imparare a fare per sviluppare l'autocompassione. Questo, ripeto, è molto utile perché ci permette di essere delle persone diverse, delle persone nuove e soprattutto delle persone felici, perché il nostro obiettivo è davvero quello di essere felici. Felici perché meritiamo di esserli. Quindi non lasciare che nessuno ci possa rubare la felicità. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, iscriviti anche al mio nuovo canale, Felicità e benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti! Grazie! Grazie!